Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vi voglio parlare di BitGet, un exchange che negli ultimi mesi ha fatto veramente dei passi da gigante che sta avvenendo sempre di più utilizzato praticamente in tutto il mondo da tantissimi utenti. BitGet oltre ad essere un exchange veramente ottimo, che sta prendendo piede in maniera veramente eccezionale, ci offre pure tantissime funzionalità. Non è finita qui perché oltre tutto questo, al momento stanno facendo delle promozioni veramente pazzesche. Ragazzi sì, avete capito bene, sto parlando di più promozioni, quindi ci sono effettivamente più bonus che potrete sbloccare iscrivendovi a BitGet. In ogni caso tranquilli perché nel video di oggi andiamo a vedere tutto quanto nel dettaglio, vi faccio vedere quali sono i bonus, come fare per ottenerli, vi spiego un po' come funziona BitGet in generale e vi faccio vedere tutte le funzionalità più interessanti di questo exchange. Prima di cominciare però mi raccomando, lascia un bel like, iscriviti al canale se non l'hai già fatto, perché ragazzi è completamente gratuito, clicchi là sotto e faresti tantissimo per aiutarmi con la crescita del canale. Vi ricordo inoltre che se vuoi restare sempre aggiornato, ti lascio qui sotto in descrizione il link ai miei canali social, al profilo Instagram, al mio canale Telegram e trovi anche tutti i link più utili per le varie piattaforme, in questo caso ovviamente anche di BitGet. Sigla e partiamo subito! Allora, siccome so che questa è una di quelle cose che vi interessa di più in assoluto, partiamo con la descrizione dei bonus. Sì, perché ci sono più bonus, oggi vi elenco i due bonus principali che ci sono attualmente. Allora, innanzitutto vi parlo del primo bonus che è un bonus che sono riuscito ad ottenere io personalmente per la mia community, quindi ragazzi è un bonus esclusivo dedicato solo ed esclusivamente a voi, soprattutto, attenzione, cosa importante, questo bonus è valido soltanto per i primi 50 utenti che si iscriveranno su BitGet. Ma di che cosa si tratta fondamentalmente? Il primo bonus consiste in una mystery box che va dai 15 ai 100 dollari di bonus da poter usare all'interno dell'exchange. Praticamente poi tutti i profitti che fate utilizzando questo bonus saranno completamente prelevabili. Come si fa per prendere questa mystery box? Veramente semplicissimo, basta registrarsi con il link che trovate qui sotto in descrizione e un link referral. Effettuare un primo deposito di almeno 100 euro, semplicemente entro 7 giorni lavorativi riceverete questa fantastica mystery box. Quando ci sono delle cose importanti però da tenere in considerazione, innanzitutto, come vi ho già detto, potranno soffrire di questo bonus soltanto i primi 50 iscritti tramite il mio link referral, quindi affrettatevi se volete farlo. Altra cosa importante, la promozione durerà solo ed esclusivamente fino al 31 marzo. Ma fermi tutti perché non è finita qui. Abbiamo infatti un secondo bonus veramente ghiottissimo. Infatti se depositerete almeno 150 euro con un bonifico SEPA, innanzitutto avrete le commissioni completamente azzerate. Basterà fare un trade dello stesso valore che avete effettivamente depositato. Non sapete bene che trade fare e tranquillamente aprire un trade e chiuderlo poco dopo. Così praticamente il rischio di perdere capitale è quasi pari a zero. A quel punto entro 7 giorni lavorativi riceverete un fantastico bonus di ben 20 dollari, completamente prelevabili. Quindi potete sia usarli nell'exchange, potete prelevarli, potete farci tutto quello che volete. Comando però per accedere a questo bonus, se ne ha di fare il bonifico, dovete andare su una pagina che vi lascio qui sotto in descrizione. Magari qui a schermo vi faccio vedere qual è la pagina di cui stiamo parlando. L'importante è una volta arrivati in questa pagina, è scendere fino a dove c'è scritto register, cliccarci sopra. In questo modo vi registrerete alla campagna, e avrete la possibilità di usufruire di questo bonus. Anche in questo caso, attenzione perché il bonus dura solo fino a giorno 28 febbraio, quindi mi raccomando affrettatevi, e verrà utilizzato un monte premi di massimo 20.000 dollari. Quindi mi raccomando fate in fretta, perché fondamentalmente verranno ricompensati soltanto i primi 10.000 utenti. Ma adesso eccoci al computer, questa è la fantastica home page di Bitget. Vi faccio brevemente vedere quali sono tutte le funzionalità. Chiaramente per partire vediamo come si fa a depositare, così vi faccio anche capire come fare il bonifico SEPA per andare a guadagnare i due fantastici bonus di cui vi parlavo poc'anzi. Allora, innanzitutto basta andare su Buy Crypto, andiamo su Deposito bancario, ok, clicchiamo su Deposito Fiat, clicchiamo su SEPA, andiamo avanti. Ok, in questo caso è necessario andare ad associare un numero di telefono e una mail. Chiaramente vi chiederà di fare KYC, perché è necessario per fare dei depositi con valute Fiat. Quando completato il KYC vi chiederà di inserire l'importo che volete effettivamente andare a depositare all'interno dell'exchange. Abbiamo detto poc'anzi, se volete usufruire di entrambi i bonus, vi basterà utilizzare un importo di almeno 150 euro. Vi darà effettivamente poi un IBAN con tutti i dati necessari per compilare il bonifico e semplicemente aprite l'app della vostra banca, fate un bonifico e in poco tempo arriveranno i vostri fondi all'interno dell'exchange. Quindi ricapitolando brevemente, come facciamo a ottenere questi bonus? Vi registriamo con il link che vi lascio qui sotto in descrizione. È un link promo, quindi mi raccomando, utilizzate quello, altrimenti non riceverete purtroppo nessun bonus. Andate qui nella pagina che vi ho fatto vedere poc'anzi, cliccate su Register e in questo modo avrete la possibilità di registrarvi alla campagna per guadagnare i 20 dollari supplementari del secondo bonus. Una volta fatto ciò, andate qui sulla pagina principale di BitCat, fate il deposito bancario, depositate almeno 150 euro all'interno dell'exchange e poi vi basta fare un trade con lo stesso valore di quello che avete depositato. Quindi se depositate 150, fate il trade di 150. Entro 7 giorni lavorativi, riceverete sia la Mystery Box fino a 100 dollari, i 20 dollari completamente prelevabili sin da subito. Ovviamente io vi ho fatto vedere il deposito tramite bonifico bancario, ma chiaramente abbiamo la possibilità di acquistare crypto con il Pertupir, abbiamo la possibilità di acquistarlo tramite carta e quant'altro. Andiamo a vedere adesso la sezione Trade. Quando vedete è possibile fare Trading Spot, utilizzare la leva, fare strategie trading, ovvero utilizzare dei bot di trading e soprattutto abbiamo la possibilità di utilizzare i futures. Andiamo ad esempio a vedere Bitcoin. Allora, questo è il grafico di BTC USDT. Vedete, grafico offerto da TradingView, quindi obiettivamente un grafico veramente eccezionale. Ci troviamo poi nella parte centrale l'order book, poi sulla destra troviamo il riguardo in cui è possibile andare ad aprire le nostre posizioni long e short. Vediamo per esempio come si fa ad aprire una posizione in long a mercato. Qua abbiamo le tipologie di ordini che vogliamo aprire. Apriamo per esempio una posizione al mercato, inseriamo l'importo di Bitcoin, per esempio mettiamo mezzo Bitcoin, magari avessimo mezzo Bitcoin, però insomma facciamo finta. Abbiamo la possibilità chiaramente poi di inserire Take Profit e Stop Loss, qui basterà inserire il prezzo del Take Profit e qua quello dello Stop Loss. Abbiamo chiaramente la possibilità di operare anche in leva da 1 a 125, quindi ragazzi davvero tanta roba per chi sa come utilizzarla. Per chi invece non lo sapesse, fate attenzione mi raccomando all'aumentare della leva, si aumentano chiaramente i possibili guadagni, ma aumenta esponenzialmente anche il rischio, quindi mi raccomando fate le cose con molta attenzione. Una volta impostato tutto quanto, se vogliamo operare long clicchiamo su Compra Lungo, chiaramente, se invece vogliamo andare short clicchiamo su Vendi Corto. Abbiamo poi la sezione Mercati, una sezione che a me piace veramente tantissimo, perché abbiamo la possibilità di avere sott'occhio praticamente tutti gli asset che stanno performando meglio negli ultimi periodi. Ad esempio possiamo vedere, qua abbiamo le classifiche con i Top Gainer, ovvero quelli che nelle ultime 24 ore hanno effettivamente guadagnato di più. No, poi chiaramente nella parte in alto, sott'occhio le crypto che magari sono di maggior interesse come BTC e Ethereum. Poi abbiamo BGB, ovvero il token ufficiale di BitGet. E se detenuto vi dà la possibilità di usufruire veramente di tantissimi vantaggi. Poi puoi vedere una sezione interessantissima, ovvero Copy Trading. La parte relativa al Copy Trading avremo quindi la possibilità di andare effettivamente a copiare dei trader che fondamentalmente andranno a lavorare al posto nostro. In questo caso è possibile andare a selezionare i vari trader in base alla valutazione, in base ai follower, al ROI e quant'altro. Chiaramente ragazzi, non mi soffermo più di tanto in questa sezione adesso, in questo video, perché altrimenti, ragazzi, vi viene un video di, non lo so, 12 ore. Però insomma, sicuramente ci ritorneremo, andremo a vedere un po' meglio, diciamo, come funziona il Copy Trading all'interno di BitGet, anche perché mi interessa moltissimo e sono sicuro possa interessare anche voi. Quindi, sicuramente ci ritorneremo. Abbiamo poi la sezione di Earn, quindi il guadagna, dove c'è la possibilità, ad esempio, di andare a mettere in earning determinate criptovalute, come ad esempio USDT, su cui abbiamo un APR addirittura dell'8%, e tantissime altre che troviamo qui, ad esempio Bitcoin all'1.9%, Ethereum al 4% e così via. Abbiamo infine il Launchpad, che in realtà è una funzionalità che è entrata in vigore da pochissimo all'interno di BitGet. Funziona un po' come altri Launchpad che abbiamo già visto nel corso del tempo all'interno di questo canale, ad esempio quelli di Binance. In sostanza, abbiamo la possibilità di investire in un determinato token, prima ancora che venga lanciato sul mercato, per fare ciò, chiaramente, sarà necessario possedere dei token di BitGet e tendenzialmente queste tipologie di progetti sono solitamente molto redditizie. Ovviamente non è sicuro, ovviamente non si può sapere a priori, però ecco, diciamo che avere questa funzionalità di Launchpad sicuramente aumenta il valore di questo exchange. Sulla parte destra, infine, abbiamo la sezione relativa agli asset, abbiamo la sezione relativa al nostro profilo, alle notifiche e quant'altro. Chiaramente, altra cosa importante, esiste l'app ufficiale, scaricabile sia per Android che per iOS, funziona in maniera veramente impeccabile e soprattutto ci dà la possibilità di avere tutto sotto mano che attraverso il nostro smartphone, quindi veramente ottimo. Bene, signori, per il video di oggi è tutto. Io spero che vi sia piaciuto e soprattutto che vi possa tornare utile, sia perché BitGet è veramente un exchange che secondo me vale davvero la pena. Si tratta di un ottimo exchange che sta crescendo tantissimo negli ultimi mesi. Soprattutto, ragazzi, in questo periodo abbiamo veramente tantissimi bonus da poter sfruttare. e onestamente io non me li lascerei scappare. Mi raccomando fate attenzione alle scadenze, se volete approfittarne fatele il primo possibile perché oltre alle scadenze, come avete visto, c'è anche un limite di utenti massimo che possono riscuotere questi bonus, quindi mi raccomando. Per qualsiasi dubbio o domanda, chiaramente scrivete qui sotto nei commenti, io come sempre cercherò di rispondervi il prima possibile. Noi ci becchiamo, alla prossima!